Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube che grazie a voi sta diventando una piccola grande realtà di contrainformazione. Siamo oltre 120.000 iscritti, continuate ad iscrivervi. Bentornati anche sulla pagina Facebook. Oggi vorrei sottolineare l'ipocrisia stomachevole che ci circonda rispetto al caso Berlusconi, anche ricordando determinati fatti o determinate dichiarazioni che abbiamo il dovere di rammentare proprio per non essere servi di una narrazione o di un sistema mediatico politico, è davvero ipocrita. Io sono stato accusato di essere diventato berlusconiano per aver osato dire che alcune delle cose dette da Berlusconi negli audio rubati sono vere. È vero che in Donbass negli ultimi anni, prima dell'invasione russo dell'Ucraina, sono stati commessi crimini a danno della popolazione russofona. Io quando ero a Belgorod in Russia, al confine con l'Ucraina, ho parlato con decine e decine di rifugiati russi, sono russi, fuggiti dal Donbass in Russia per scappare anche spesso da violenze commesse da miliziani fedeli anche all'ideologia neonazista in Ucraina e mi hanno fatto vedere foto, documenti, mi hanno raccontato quelle da camere dagli occhi di quello che hanno subito negli ultimi anni, appunto prima dell'invasione russa dell'Ucraina, che per me questa cosa non giustifica l'invasione russa dell'Ucraina, ma va raccontata. Le morti in Donbass, gli stupri, le devastazioni hanno la stessa dignità di altri morti, di altri stupri, di altre devastazioni. Non raccontare quel pezzo di storia è davvero grave, non è etico e soprattutto ci allontana da una possibile soluzione negoziale della guerra, sulla guerra che nessuno cerca. Io tuttora, oggi, non riesco a sentire importanti politici al potere in Europa parlare di pazzi negoziati, soluzioni diplomatiche, nulla. E ci sarebbe la possibilità, ne sono convinto. Con una proposta concreta che possa partire dal riconoscimento, o meglio dalla disponibilità al riconoscimento della Crimea russa in cambio di un immediato cessato il fuoco in Ucraina e della disponibilità di tutti gli attori sedersi intorno a un tavolo per scrivere, per tirare fuori, per concordare una soluzione diplomatica appunto della questione Donbass, perché il problema c'è e resterà, qualunque possa essere, tra anni, domani, dopodomani, veramente tra anni, l'esito della guerra. Il problema è la presenza di cittadini, tra l'altro che sono stati discriminati negli ultimi anni, cittadini ucraini in Donbass che non si sentono ucranie ma si sentono russi, per 9 milioni di persone. Ecco, Berlusconi per aver usato, come dire, distanziarsi, tra l'altro leggermente, per certi versi, dalla narrazione nato, oggi viene trattato come un rincoglionito, per carità, ognuno ha le sue idee e ripeto, il fatto che io possa essere accusato di essere diventato berlusconiano, quanti altri parlamentari o ex parlamentari, insieme a migliaia di cittadini, sono andati sotto casa di Berlusconi a leggere la sentenza dell'Utri? Quanti? Quante volte l'hanno fatto degli esponenti del PD? Tra l'altro io ho lasciato il Movimento 5 Stelle quando hanno deciso di sostenere il governo Draghi insieme a Forza Italia. Per me quella era una linea etica invaricabile, perché non voglio avere nulla a che fare con un partito fondato anche da una persona come Dell'Utri, che ha avuto frequentazioni e è stato condannato di fatto per un reato di mafia, associazione esterna, concorso esterno, anzi in associazione mafiosa. Ma a di là di questo, dato che penso di essere una persona indipendente intellettualmente che ama la libertà e non ho paura di dire quello che dico, sostengo che alcune cose che ha detto Berlusconi siano vere, ma la cosa che è veramente stomachevole è che Berlusconi, che è stato negli ultimi tempi addirittura incensato come rappresentante autorevole dell'europeismo in Italia, un moderato, l'hanno quasi descritto come un uomo istituzionale e oggi venga deriso in ogni modo da coloro che sono restati zitti di fronte a oscenità berlusconiane degli ultimi trent'anni, ma oggi si sentono in diritto di portare avanti la vendetta della vodka, la definisco così, perché Berlusconi ha osato contraddire alcune parti della narrazione. Nato, che la Nato elargisce alle cancellerie europee, le cancellerie europee dopo essersi messe tutte sull'attenti accettano e attraverso un copia e incolla presentano questa narrazione Nato alle pubbliche opinioni europee senza un minimo di spirito critico. Ecco, oggi giornalisti e politici che hanno leccato per anni il fondo schiena di Berlusconi o banalmente sono rimasti in vergognosi silenzi davanti a delle porcate e non hanno mai fatto nulla per contrastare tali porcate, si sentono in libertà appunto di prendere le distanze con un certo orgoglio finalmente da Berlusconi perché la Nato i padroni americani glielo consentono. È veramente oscena questa pratica patetica e vile perché Berlusconi andava contrastato quando era potente, quando tutti invece lo consideravano addirittura un nuovo padre della nuova Europa. Io me le ricordo tutte queste cose. Grazie per essere venuto, gli disse Draghi quando Berlusconi andò a trovarlo per parlare della presenza di Forza Italia nel governo Draghi che è il governo uscente. Grazie per essere venuto, ma non ve le ricordate quelle parole. Ecco, a proposito di parole, oggi vorrei partire da una deputata del Partito Democratico che si chiama Lia Quartapelle, una filoamericana particolarmente incline a tutto quel che proviene da Washington, che ha appena annunciato su Twitter, in maniera anche piuttosto indignata, una interrogazione parlamentare sulle sanzioni che sarebbero state aggirate da Putin e Berlusconi rispetto a dei regali, appunto, vodka e Lambrusco. Secondo la Commissione europea il regalo delle 20 bottiglie di vodka da Putin a Berlusconi è una violazione delle sanzioni. Presenterò un'interrogazione parlamentare per chiedere al governo italiano come intende reagire a questa violazione delle sanzioni contro la Russia. Le grandi battaglie del Partito Democratico, proprio in questo momento storico abbiamo proprio bisogno di interrogazioni del genere, non interroghiamoci, non analizziamo l'impatto delle sanzioni in Russia o l'impatto delle controsanzioni russe in Italia e in Europa, non ci dedichiamo a queste tematiche ma presentiamo interrogazioni parlamentari sulle 20 bottiglie che Putin avrebbe, perché poi era sempre detto Berlusconi, fatto recapitare a Berlusconi come segno di amicizia. E è patetico tutto questo, soprattutto da parte di un Partito Democratico che ha avuto anche in passato rapporti con Putin di altro tipo, per carità nessun politico ha avuto rapporti di amicizia così stretti con Putin come Berlusconi, ma che fondamentalmente oggi ha la libertà o si prende la libertà di attaccare Berlusconi perché c'è la protezione della Nato in un certo senso e che ieri stava zitto di fronte appunto a porcherie berlusconiane. Nel 2003 alla Camera dei Deputati Luciano Violante, che all'epoca era capogruppo, queste cose le dobbiamo ricordare, capogruppo dei democratici di sinistra, poi si sono trasformati aggiungendo un po' di democrazia cristiana in Partito Democratico, ricordo a Berlusconi che loro, quando avevano governato, non avevano mai messo mano alle questioni diciamo più importanti appunto che riguardavano l'ex cavaliere in primis quella sul conflitto di interessi. Ricordiamo quel che disse in Parlamento Luciano Violante, l'onorevole Berlusconi sa per certo che gli è stata data la garanzia piena, non adesso, nel 1994, che non sarebbero state toccate le televisioni e lo sa, lo sa lui, lo sa l'onorevole Letta, Gianni Letta. Voi ci avete accusato di regime nonostante, ripeto, non avessimo fatto il conflitto di interessi, lo diceva quasi con un certo orgoglio, avessimo dichiarato elegibile Berlusconi nonostante le concessioni perché di fatto era ineleggibile Berlusconi all'epoca per le concessioni televisive e durante il centrodestra avessimo aumentato, il centrosinistra scusate, avessimo aumentato il fatturato di media 7 di 25 volte. Questo lo disse Luciano Violante, capogruppo di DS, in Parlamento nel 2003. Ma negli anni successivi il Partito Democratico è stato mai anti-Berlusconiano? Ma io credo veramente che vi sia, lo scrive anche Travaglio stamattina sul fatto, un'amnesia, il pezzo si chiama Amnesi International, un'amnesia vergognosa da parte appunto di giornalisti pavidi che oggi fanno finta di aver trovato il coraggio e di politici conniventi, a cominciare dai politici del Partito Democratico che con Berlusconi hanno votato di tutto, non hanno toccato il conflitto di interessi, non hanno toccato le concessioni, hanno di fatto avvantaggiato Mediaset e le aziende berlusconiane, non hanno praticamente mai. Io vorrei trovare qualche dichiarazione di un pezzo grosso del Partito Democratico sui finanziamenti appunto a Cosa Nostra da parte di Berlusconi. Io e tanti altri leggemmo la sentenza dell'Utri sotto casa di Berlusconi e vorrei ricordarne alcune parti. Io che sono diventato berlusconiano. Grazie all'opera di intermediazione svolta da Dell'Utri veniva raggiunto un accordo che prevedeva la corresponsione da parte di Silvio Berlusconi di rilevanti somme di denaro in cambio della protezione a lui accordata da parte di Cosa Nostra palermitana. Tale accordo era fonte di reciproco vantaggio per le parti. Per Silvio Berlusconi consisteva nella protezione complessiva sia sul versante personale che su quello economico. Per la consorteria mafiosa si traduceva invece nel conseguimento di rilevanti profitti di natura patrimoniale. Tanti quattrini passati appunto da Berlusconi a Cosa Nostra. In anni in cui Cosa Nostra ricattava, uccideva, faceva saltare in aria giudici, faceva saltare in aria, uccideva persone che si opponevano a racket, al pizzo, alle istorsioni. Lui pagava. La Cassazione riporta anche, questa parte è una sentenza di Cassazione che riguarda la condanna in via definitiva di Marcello Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa. La Cassazione riporta anche quanto affermato dalla Corte d'Appello, nel precedente grado di giudizio, la morte di Stefano Bontade che all'epoca era uno dei principali capi di Cosa Nostra. Faceva parte in un certo senso di un triunvirato composto da lui, da Luciano Liggio che è il padre spirituale e mafioso dei vari Corleonesi, Reina, Bagarella e Provenzano. E poi c'era Tano Badalamenti che fu il mandante dell'omicidio di Peppino Impostato. Ecco, questo lo riporta la Cassazione. La morte di Stefano Bontade e di Girolamo Teresi che Berlusconi incontrò, entrambi vennero convocati in un ufficio milanese nel 74 se non erro e durante quell'incontro venne siglato un patto per la cui intermediazione è stato condannato Dell'Utri. La morte di Stefano Bontade e Girolamo Teresi del sopravvento di Torrine e dei Corleonesi non aveva mutato gli equilibri che avevano garantito l'accordo del 74. Berlusconi infatti aveva costantemente manifestato la sua personale propensione a non ricorrere a forme istituzionali di tutela ma ad avvalersi piuttosto dell'opera di mediazione con Cosa Nostra svolta da Dell'Utri. Ma c'è stato qualche politico del PD capace di leggere, di ricordare qualcuna di queste frasi scritte in una sentenza, scritte dalla Cassazione, una sentenza in via definitiva. Mai, mai però oggi si scandalizzano, poi per cosa? Per un'amicizia di Berlusconi con Putin che va avanti da anni. Ma soprattutto la quarta pelle e gli altri che si scandalizzano per queste 20 bottiglie di vodka. Ma perché non si sono scandalizzate quando a Trieste di fu, questo pezzo è del Sole 24 Ore, quotidiano che appartiene a Confindustria, a Trieste l'incontro Putin letta al Business Forum siglati 28 accordi, il Sole 24 Ore, un pezzo del 26 novembre 2013. 26 novembre 2013, anni dopo la guerra in Cecenia che viene ricordata oggi giustamente come un esempio di violenza commessa dall'esercito russo e anche anni dopo l'assassino della Politovskaia. Ecco, anni dopo quei fatti, Letta, occhi di tigre Letta, siglava con Putin degli accordi importati, lo incontrava a Trieste, non solo. Altro articolo fatto quotidiano, guerra in Ucraina, il governo Renzi autorizzò una maxivendita di blindati a Mosca nel 2015, ma era in vigore un embargo da luglio 2014, immagino un embargo a seguito dell'annessione della crimina da parte russa. Ecco, Renzi, il governo Renzi al quale lì a Quartapelle era in Parlamento, all'epoca c'ero anche io, ha votato svariate fiduce, il governo Renzi autorizzò una maxivendita di blindati a Mosca, appunto nonostante vi fosse un embargo. Il divieto di vendita di armamenti europeo è in vigore dal 2014, ma l'anno dopo il governo Renzi, con l'allora ministro degli esteri Paolo Gentiloni, ha autorizzato la vendita di 94 blindati per un valore totale di oltre 25 milioni, di cui 83 sono stati consegnati nello stesso anno. Nel 2021 l'Italia conta un export di 3 milioni e 118 mila euro di armi e munizioni destinate ai corpi di polizia o enti governativi russi. Mica si è scandalizzata di questo lì a Quartapelle, non lo so, comunque avrebbe potuto lasciare il proprio partito, no? Cioè, vedete l'ipocresia sconvolgente, oggi parliamo di bottiglie di vodka o prendono tutti le distanze da Berlusconi dopo aver avallato porcherie berlusconiane, non aver toccato, ripeto, il conflitto interessi, le concessioni televisive, averlo reso elegibile nonostante molto probabilmente non lo fosse. Lo hanno addirittura negli ultimi anni quasi, come dire, considerato un responsabile. Veramente è stato trattato come un uomo, come una riserva repubblicana quando ha dato l'occhio al governo Draghi, interessato come sempre alla salvaguardia delle sue aziende. Ricordo Letta, che grande, che grande, lo definì che grande quando Berlusconi in aula, dopo aver minacciato di togliergli la fiducia al governo Letta, alla fine gliela concesse, che grande, grande. Letta Enrico, non Letta Gianni, Letta Enrico, ma banalmente il Partito Democratico che non ha mai attaccato su questioni veramente importanti Berlusconi, che addirittura ha attaccato la giustizia in maniera subdola, Berlusconi lo faceva in maniera diretta, con leggi oscene, e il Partito Democratico l'ha fatto spesso e volentieri in modo altrettanto forte, ma in maniera più subdola, banalmente senza portare avanti determinate leggi, per me ha, ecco, realmente importanti contro la corruzione, ma il Partito Democratico di fatto con Berlusconi ci ha fatto tre governi, ne ha fatto tre governi, il governo Monti, sostenuto dal Partito Democratico e da Forza Italia insieme, il governo Letta, dove vi erano all'interno esponenti del PD e di Forza Italia, e il governo Draghi, dove vi erano all'interno esponenti del PD e di Forza Italia. Ci hanno fatto tre governi e oggi presentano interlocuzioni parlamentari scandalizzati su 20 bottigli di vodka, e i giornalisti che per anni l'hanno appunto definito il nuovo responsabile. Il Corriere della Sera scrive, si è giocato con quegli audio rubati tutta la credibilità, quale credibilità? La credibilità che aveva ottenuto con il suo spiccato europeismo negli ultimi anni, ma quale credibilità? Ma ci dimentichiamo tutto quello che è avvenuto. Però oggi si può attaccare Berlusconi, tutti quelli che non hanno avuto il fegato di attaccarlo in questi ultimi 30 anni, lo attaccano, perché i padroni, i veri padroni dell'Italia e ahimè dell'Europa, perché poi più un Nato significa meno Europa, e guardate l'Europa, ci hanno raccontato, ora pare che abbiano tirato fuori, poi vediamo un piccolo accordo. Guardate l'Europa quanto è divisa in debolità. Chi sosteneva da anni che le sanzioni contro la Russia avessero un altro obiettivo, ovvero prima quello in indebolire soprattutto le relazioni tra Russia e Europa. E oggi le sanzioni non hanno come obiettivo né quello di buttare giù l'economia russa, che ha dei problemi, ma dal mio punto di vista ha più problemi l'economia europea, né quello di far finire presso la guerra, perché se l'obiettivo fosse terminare la guerra il prima possibile, politici europei, l'Europa, avrebbe nominato la Merkel come possibile intermediario, possibile responsabile di una mediazione appunto negoziale e avrebbe avanzato un minimo di proposti di negoziato dalle quali partire, invece non l'ha fatto. Parlano soltanto di sanzioni, armi, armi e sanzioni, sanzioni, armi, armi e sanzioni, perché ancora oggi, vedremo che cosa avverrà dopo le elezioni americane, ancora oggi l'idea di far finire presto la guerra, in tanti non ce l'hanno. I padroni oggi dell'Europa, soprattutto la Nato, più Nato meno Europa, vanno seguiati e quindi la loro presenza libera, l'energia, l'indipendenza, se dice pseudo indipendenza intellettuale di politici e giornalisti, i quali attaccano Berlusconi lo criticano per queste ragioni, ripeto, coloro che sono stati zitti per anni, coloro che hanno avallato governi con Berlusconi, che non hanno toccato quel che a Berlusconi interessava sul serio, che hanno accettato delle porcherie, che non hanno mai parlato di mafia, di finanziamenti e di nulla al riguardo, anzi che hanno criticato, quello io ricordo quanto sono stato criticato quando andai ad Arcore, anche da parte di alcuni politici di centro-sinistra che hanno definito quell'iniziativa populista, le solite balle dette da coloro che non hanno il fegato di dire determinate cose, ma che devono attaccare coloro che invece hanno il coraggio anche di leggere un pezzo di sentenza che riguarda legami con la mafia da parte di Marcello Dell'Utri, ma che ricorda dei finanziamenti di Berlusconi, una cosa nostra sotto casa di Berlusconi. Questo è quanto. Oggi i politici senza spina dorsale portano avanti la vendetta della vodka e sono soprattutto politici che non parlano minimamente di quel che potrebbe essere una soluzione in Ucraina, che continua ad essere il problema principale a livello, probabilmente mondiale, non soltanto europeo. Politici che non hanno neanche il coraggio di analizzare l'impatto delle sanzioni in Russia e in Europa, politici che non riescono ad avanzare nessuna linea, nessuna proposta appunto diversa da più armi e più sanzioni, politici che hanno amato Berlusconi. Sotto sotto lo hanno amato perché volevano essere come lui, lo hanno amato, lo hanno difeso, non attaccandolo su determinate cose, ci hanno fatto governi e che oggi finalmente si sentono in diritto di poterlo attaccare proprio perché protetti da un padrone, perché prima c'era Berlusconi come loro padrone, da un padrone più importante. Ecco tutto questo è veramente avvilente. Ricordiamo determinati fatti, ricordiamo alcune cose che sono avvenute e cerchiamo sempre di essere indipendenti intellettualmente e di giudicare quel che è giusto, vero, non giusto, non vero, non solo sulla base di chi dice determinate cose, ma sulla base della verità o banalmente di quello che noi pensiamo. Grazie a tutti e buona giornata.